Eccoci qua, vi ritorno in diretta alle 12.36 con il CreaLavoro e il nostro appuntamento fisso del giovedì nella seconda parte di 3.0 in cui ospitiamo startup per realtà legate all'innovazione, alle nuove tecnologie, al digitale e come ogni giovedì abbiamo ospiti in studio. In questo caso do il benvenuto a Mauro Di Giambardino, buongiorno, di Smartai che è una smart app tecnologica che si occupa di servizi per la città, di illuminazione intelligente, mobilità urbana, nonché di sicurezza urbana, un tema di cui peraltro da queste parti a Radio Città Futura ci siamo occupati molto lungamente. Poi c'è Ciro Formisano cui do il benvenuto anche a lui di Airgloss, benvenuto. Grazie, buongiorno. Anche lui startup che si occupa con la sua startup di building automation e smart home. Noi ci siamo conosciuti all'interno del tecnopolo Tiburtino in occasione di un appuntamento che radunava molte startup del territorio, un appuntamento organizzato da Biclazio che peraltro è stato il luogo, lo strumento che in qualche maniera li ha fatti conoscere, nel senso che loro sono due startup in questo momento incubati all'interno del Biclazio e che grazie all'idea, al concetto di co-working sono riusciti a mettere insieme le loro competenze e oltre a lavorare insomma ognuno nel proprio ambito, nella propria startup, stanno promuovendo in questo momento e a breve insomma lo faranno, ci racconteranno anche i dettagli, un crowdfunding per lanciare sul mercato un nuovo progetto congiunto. In questo caso il lavoro che hanno fatto insieme è finalizzato a produrre, anzi lo hanno già fatto, un strumento legato allo smart home per la sicurezza domestica. Prima di parlare del progetto congiunto noi vogliamo conoscervi perché in questo spazio raccontiamo proprio gli startup come nascono, insomma quali difficoltà hanno incontrato. Comincerei proprio da Mauro Giambardino che è qui accanto a me di SmartEye, come nasce SmartEye e il suo percorso personale qual è, insomma come arriva a diventare startup? Allora grazie, io arrivo a diventare uno startup attraverso quella che in realtà è un indole personale. All'inizio in realtà appena avevo completato gli studi volevo stare... Di che tipo? Ingegneria, io sono lavorato in ingegneria, ho fatto anche ricercatore. Volevo essere tranquillo, volevo avere un lavoro dipendente che mi permette di essere SmartEye è una delle società che ho creato nel tempo, mi sono occupato in passato di società in ambito spaziale, ho realizzato una società che si occupava di droni aerei, siamo la prima società in Italia che si occupava di droni aerei. Sono arrivato a SmartEye perché avevo l'intenzione di creare qualcosa che portasse un beneficio concreto per i cittadini in ambito urbano, attraverso quella che è un'intelligenza diffusa, che è l'intelligenza artificiale di cui si sente parlare tanto ultimamente. Certo, e come si applica nel vostro di progetto? Vostro perché immagino siete una squadra oppure una start-up portata avanti unicamente da te, no? No, no, siamo un team, siamo un team, adesso attualmente siamo 6-7 persone, abbiamo avuto diversi riconoscimenti, abbiamo avuto un funding di 800.000 euro, da cui 100.000 anche dalla regione Lazio in passato. L'intelligenza artificiale si applica nel contesto urbano attraverso un sensore che abbiamo realizzato, che si chiama proprio SmartEye, occhio intelligente, che si installa sui lampioni dell'illuminazione pubblica e capisce cosa sta accadendo in città e fornisce dei servizi per la cittadinanza, tra cui l'illuminazione intelligente, che significa sostanzialmente varia l'illuminazione in base all'effettiva necessità della strada, quindi a quante macchine stanno passando, alla visibilità, eccetera. La mobilità urbana, riconoscendo per esempio le aree di sosta libera attraverso l'intelligenza artificiale, l'analisi delle immagini, la visione e la sicurezza. Che funzionano bene, mi auguro, non come nei posti all'interno per esempio dei grandi centri commerciali in cui il rilevatore segnala che la macchina è presente e poi tu passi lì e vedi che il posto è vuoto. Sarei controproducente a dire che il mio strumento non funzioni. È molto più difficile e funziona bene. Abbiamo installato a Roma, per esempio a Roma abbiamo avuto quasi 500 installazioni dello SmartEye che vengono utilizzate per l'ottimizzazione semaforica. Dove li troviamo? Beh, li troviamo un po' sparsi nella città. Adesso per esempio ci sono su Viano Mentana, sono installate, oppure nel quartiere Testaccio ci sono. Quello che fanno è che analizzano il traffico e consentono di ottimizzare il semaforo, di impiegare quelli che sono chiamati semafori intelligenti, ossia dove il ciclo semaforico varia effettivamente in base all'uso. Quindi quando una squadra, diciamo così, un'impresa realizza un prodotto di questo genere, oltre al lavoro di organizzazione, di poter reperire i fondi, dopodiché c'è qualcuno che si occupa anche dell'interlocuzione con i possibili clienti, in questo caso è stato il Comune di Roma? Beh, l'interlocuzione con i clienti è sempre la parte più difficile, perché sembra strano, ma arrivare a realizzare un prodotto, un'idea si può fare, riuscire a venderlo, a tirare su attività è anche molto molto complicato. Ce lo raccontano tutti, in questo caso ci sarà qualcuno nel vostro staff che o è multitasking oppure è dedicato a questo? Ecco, sono io che sono multitasking, oppure abbiamo dei supporti esterni, dei consulenti, delle persone che lavorano più sulla parte commerciale. Bene, allora cerchiamo di conoscere anche invece Airgloss con Ciro Formisano, voi vi occupate di building automation e di smart home, che significa? Esatto, smart home è un nuovo concetto, un nuovo trend di oggetti installati nella casa che la rendono intelligente, consentono di automatizzare alcuni processi, come ad esempio la gestione del riscaldamento a distanza, con uno smartphone è possibile accendere, spegnere il riscaldamento, piuttosto controllare le luci, interagire con la casa. Che tipo di apparecchiatura, la dico proprio all'antica, è necessario applicare però per poter agire tramite un'app da remoto, da fuori? Il concetto è necessario sviluppare comunque in piccolo un'infrastruttura locale che consente di acquisire le informazioni e di interagire con tutto quello che riguarda l'ambiente della smart home e collegarsi con un server remoto e consentire comunque a un'app di interagire. Noi nello specifico ci occupiamo di monitoraggio ambientale, di benessere e comfort nella casa, infatti Airgloss nasce in primis come strumento per monitorare e verificare se ci sono contaminanti nell'aria e consentire di, notificandolo poi all'agente. Di che genere? Normalmente si pensa all'inquinamento come a inquinamento esterno prodotto dalle automobili, in realtà ci sono molti pericoli nella casa dovuti all'uso di stufe piuttosto che di fornelli o quello che provoca combustione o anche gli semplici detersivi inquinano e possono produrre effetti sulla salute che vanno da allergie, asma fino a... E questi strumenti come sono in grado di percepire il rischio che può avvenire per esempio da un detersivo e a trasmetterlo alla persona che è interessata a saperlo? Diciamo la core technology, quello che c'è alla base è qualcosa che emula il senso olfattivo umano, ovvero ci sono degli arredi sensori che emulano un po' i recettori olfattivi e un cervello, quindi un processore che è in grado di analizzare i dati che provengono da questi sensori e di dare un output in termini di sostanza rilevata o piuttosto di situazione come ad esempio un principio d'incendio può essere rilevato come una persona riesce a fare presentendo l'odore di qualcosa che si sta iniziando a bruciare o piuttosto è tipico riusciamo a riconoscere l'ammoniaca, l'odore dell'ammoniaca, il sensore il sistema lo fa, riconosce quello che può essere l'odore di un ammoniaca o di detersivi o di altre sostanze più specifiche come gas tossici. Come arrivi a creare Airgloss? Airgloss è nata da uno spin-out di una società che ho creato già in passato che opera nell'ambito dello sviluppo di prodotti e abbiamo portato avanti per diversi anni ricerche sui nasi elettronici e abbiamo sviluppato anche già diversi prodotti tra cui uno utilizzato nel 2011 dalla NASA per monitorare la qualità dell'aria all'interno della stazione spaziale con l'obiettivo di salvaguardare la salute e l'incolumità degli astronauti. Ebbene poi nel 2014 abbiamo pensato di trasferire una tecnologia che era utilizzata in ambito spaziale rendere alla portata di tutti. In realtà in nasi elettronici ci sono oggetti molto costosi, di solito ingombrandi e complessi. Il lavoro che abbiamo fatto è stato miniaturizzare, quindi ridurre i costi, scalare e rendere poi l'oggetto appealing Per poterlo riprodurre anche su larga scala per un pubblico che non ha intenzione di pagare ovviamente delle cifre esorbitanti. Da che tipo di percorso arrivi? Insomma ci hai raccontato dal punto di vista imprenditoriale chi sei, però che tipo di studi hai fatto? Sono ingegnere elettronico e il mio percorso è iniziato un po' come tutti in azienda e ho notato poi già da subito dopo un anno che ero molto propensa alle sfide e ne ho raccolte alcune in azienda. A che età avete sganciato il lavoro da dipendenti per dedicarvi all'autoimprenditorialità puntando sulle vostre competenze? Lo domando a entrambi, prima a Mauro Di Giambardino. Qua intorno ai 32-32 anni, comunque sia importante all'inizio capire il mondo, conoscere chiaro, farsi un'idea, magari essere passato per esperienze strutturate all'interno di aziende che magari hanno delle caratteristiche più standard rispetto a quello che conosciamo. Per quello che riguarda Ciro Formisano? Non ricordo bene, credo 29-30 anni. Quindi abbastanza giovani, però maturi diciamo, non appena terminata l'università. All'interno di BIC, appunto, voi vi siete conosciuti e avete capito, parlando forse, confrontandovi tra voi, avete delle competenze che si potevano gemellare, che si potevano fondere in questo progetto di cui annunciavamo giusto qualcosa che ha a che fare con la sicurezza domestica. Di Giambardino, che cosa avete o avete o state mettendo su insieme? Sì, abbiamo visto che il nostro filo conduttore è l'intelligenza artificiale, applicata in due contesti, quindi nel nostro background aziendale. Entrambi volevamo andare a fornire dei servizi all'interno della casa per la famiglia. Quindi abbiamo deciso di unire le forze e di creare un prodotto che si chiama Pria, che è un nome sanscrito che significa cosa cara, oggetto caro. Tra l'altro, per chi volesse cominciare a informarsi, può andare sul sito che è www.pria, scritto con la Y, con la Y, PriaHome.com. Esattamente, perché verrà lanciato per una campagna di crowdfunding tra pochissimi giorni, che è una piattaforma americana, che consente di ridurre gli infortuni all'interno della casa, sia per gli anziani che per i bambini, che per la famiglia. Quindi questo dispositivo aiuterà a riconoscere la qualità dell'aria all'interno della casa, tramite la competenza di Air Gloss e i principi di incendio. Tramite le competenze di SmartTire riconoscerà, per esempio, la posizione del bambino a letto e aiuterà, quindi nel caso delle morti in culla. O riconoscerà un estraneo all'interno della casa e consentirà l'accesso da remoto del video in tempo reale e dell'audio in tempo reale. Il cliente possibile è un privato, no? Che voglia dotarsi di questa strumentazione di sicurezza. Che sarà sul mercato, una volta fatto il crowdfunding? Ma sarà sul mercato? Beh, abbiamo bisogno di andare in produzione, di ottimizzare i costi, quindi più o meno stiamo parlando di un qualcosa che è tra 10 e 12 mesi. Ancora parliamo di prodotti da ricchi, cioè chi si può approvvigionare ad un strumento come il vostro deve essere gente molto benestante, oppure l'obiettivo è comunque renderlo e diffonderlo nelle case di chiunque voglia. No, assolutamente, è aperto a tutti, possiamo dire che il target price è tra i 200 e i 250 euro. Va bene, quindi una cifra fattibile su un tema così importante come quello per la sicurezza sul quale molto spesso gli italiani spendono anche parecchio tra inferriate e strumenti di questo genere a tutela della propria proprietà, anche se qui non si parla solamente di intrusione ma anche proprio di sicurezza di bambini, di anziani. Uno strumento in più, tanto più che, insomma, viviamo molto spesso dei localizzati, no? In famiglie che non stanno più come un tempo prossime l'una all'altra e quindi sapere che invece un anziano può contare su uno strumento di questo genere che segnala perché capta la voce o il malessere della persona e lo comunica a chi in questo caso? A un parente? A chi lo segnala? A un familiare che immediatamente può vedere cosa sta succedendo, può interagire con la voce, con la persona, con l'anziano e quindi chiaramente può prendere azioni e chiamare l'ambulanza o le forze di sicurezza. Allora, abbiamo poco tempo a disposizione, però siccome abbiamo parlato di percorsi brillanti, insomma, interessanti però le difficoltà che avete riscontrato singolarmente come imprenditori proprio su questi progetti poi ci avete raccontato di attività che avete svolto precedentemente quali sono state, Ciro Formisano, cioè uno che fa impresa in ambito tecnologico, che difficoltà incontra? Allora, innanzitutto credo un po' comune a tutti il founding perché si parte con risorse ridotte e c'è necessità soprattutto quando si produce hardware di scalare non è come magari produttore... E come ci si muove in quel caso? Come si muove? Cercando investitori, nel caso nostro... Tramite i pitch, questi appuntamenti oppure si cerca in rete... Allora, noi ci siamo mossi, abbiamo presentato l'Ufficial Mender Gloss al CS di Las Vegas a gennaio quindi abbiamo avuto una pressione internazionale e lì abbiamo trovato diverse opportunità sia commerciali ma anche di potenziali finanziatori E si mettono in un portafoglio comunque O comunque si auto investe Sì, però questo potrebbe essere disincentivante, insomma, magari per un giovane io quando parlo di giovane parlo anche di 30 anni, 40 anni, 45 anni che volesse cimentarsi perché dice io se non ho un budget a disposizione molto ampio non potrò mai puntare su una mia idea No, noi qui a 3.0 cerchiamo un po' di scoraggiarlo questo concetto nel senso che per carità non è che si viva nel mondo dei sogni però affinando le capacità anche di ricerca di strumenti e di sostegno economico si può provare a investire insomma non bisogna essere milionari per essere start-up No, non bisogna essere milionari assolutamente quello che bisogna considerare è che il proprio tempo comunque sia, nella maggior parte dei casi non remunerato all'inizio, deve essere investito che ti porti a realizzare un primo prototipo un piccolo dimostratore che possa raccogliere l'attenzione di qualcun altro che a quel punto possa metterci i veri soldi per andare a realizzare un prodotto completo perché l'altro passo, oltre al funding critico prima di andare alla commercializzazione è passare dal prototipo al prodotto non è assolutamente un passo banale né in termini economici né in termini tecnici Un'ultima domanda, una curiosità bisogna sempre brevettare ciò che si fa cioè il rischio che l'idea venga rubata è alto? Dipende sempre Non sempre, non sempre la migliore strategia di protezione è una combinazione tra brevetti capacità di innovazione continua quindi essere sempre pronti ad avere la nuova generazione di prodotto e avere anche essere in grado anche di avere l'ingrediente segreto perché non è tutto fatto di brevetti o di capacità di correre l'ingrediente segreto credo che sia anche quello che può aiutare a proteggere quello che si ha Ecco, quindi non necessario di blindare il proprio prodotto ma di renderlo sempre più evoluto sempre più aggiornato sempre più al passo coi tempi Allora, siamo in conclusione però possiamo segnalare intanto i vostri siti per quello che riguarda Ciro Formisano è airgloss.com Per quello che riguarda invece SmartEye la start-up di Mauro Di Giambardino è smart-interaction.com se volete informarvi Del progetto invece congiunto di cui abbiamo raccontato questa mattina qui in 3.0 le informazioni lo dicevamo prima si possono reperire attraverso il sito www.pria.com scritto con la y punto com Grazie per essere stati con noi in bocca al lupo per tutto e buon lavoro Grazie 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 Grazie